Abruzzo Engineering, società partecipata della regione, cambia nome e implementa le funzioni. Non è solo un cambio nome in Abruzzo Progetti, ma molto di più. Oltre all'attività sin cui svolte, si occuperà anche di ingegneria idraulica, protezione ambientale, rifiuti e opere marittime. Potrà fornire servizi a tutti gli enti pubblici abruzzesi. Le novità sono state illustrate in una conferenza stampa nella sede legale e amministrativa in Piazza Santa Maria Paganica, dall'amministratore Andrea Di Biase, dall'assessore regionale Guido Liris e dal governatore d'Abruzzo Marco Marsilio. È un cambio nome che non è soltanto una questione così semantica o estetica, è una questione anche di sostanza. Si chiama Abruzzo Progetti e diventa un'azienda a supporto non soltanto della regione di cui è un braccio operativo, ma anche da oggi di tutti gli altri enti locali e degli altri enti pubblici che hanno bisogno di incrementare la loro capacità di sviluppare progettazioni per attrarre investimenti o almeno per riuscire a trasformare investimenti e finanziamenti a disposizione in progetti reali. La debolezza delle pubbliche amministrazioni nel saper fare in maniera tempestiva e corretta le progettazioni è spesso il motivo per il quale tante opere non si fanno, si fanno in ritardo o costano di più perché la qualità progettuale iniziale era scarsa e si scopre strada facendo. Abruzzo in Gidini che si chiamerà Abruzzo Progetti e da oggi in poi attraverso le convenzioni che si attueranno con il proprio socio unico si occuperà anche di progetti all'interno delle pubbliche amministrazioni e non soltanto di assistenza tecnica. In virtù di un accordo quadro sottoscritto con la regione del valore di 31,5 milioni di euro nel triennio 22-24 e di una modifica statutaria la società si occuperà non solo di assistenza tecnica ma anche di energie e lavori pubblici, governo e risorse del territorio, ambiente, protezione civile, acque, sistemi idrici, demanio idrico e marittimo, agricoltura ma anche progettazione europea, sistemi informativi, supporto alla ricostruzione e gestione delle emergenze. La società fornisce alla regione supporto tecnico e amministrativo con riguardo ad ogni altra competenza amministrativa di quest'ultima in materia di turismo, cultura, attività produttive e molto altro. L'affidamento dei servizi e delle attività avverrà anche attraverso delle convenzioni con enti pubblici, aziende, consorsi o società partecipate a capitale pubblico. La società attualmente ha circa 4,8 milioni di euro di commesse relative alla ricostruzione 2009 ma questa si sa non è eterna e dunque andava studiato un modo per garantire ad Abruzzo Progetti un futuro.